Una notizia che è diventata un caso sul noto forum Reddit e che è stata ripresa dal Fatto Quotidiano. Il protagonista del triste epilogo è un bambino di 8 anni, l'unico a non essere stato invitato alla festa di compleanno del compagno di classe. A intervenire dopo che l'alunna è tornata a casa in lacrime è stata la mamma che si è rivolta ai docenti e al dirigente scolastico chiedendo che la scuola attui politiche più inclusive nelle feste di compleanno. Così ha commentato la mamma. Non ho problemi con lui che non invita mio figlio, è la sua festa e può invitare chi vuole. Mi sembra però inutilmente crudele da parte sua escludere deliberatamente mio figlio e solo mio figlio di fronte ai suoi compagni di classe. Sempre il genitore spiega che il figlio sta riscontrando difficoltà a inserirsi con i compagni di classe. È intelligente e gentile anche se un po' fuori dal comune con il suo amore per i cavalli, le macchine a vapore e le vecchie registrazioni musicali.